Il primo trimestre è terminato e saremmo in prossimità delle vacanze estive. Tuttavia, una sfirante roe non può permettersi di battere la fiacca. Prendete questo ritiro nei boschi come un'occasione per concentrarvi sul plus ultra. Finalmente arrivate il giorno del ritiro nei boschi! Già, è vero, allora raga, troppo vicino! Qualcosa non va? Cosa dici? Ma ti pare? Tu ti sei innamorata? Ehi, so, ma che è il ritiro nei boschi! Che bella, 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 che bella! Loro hanno parlato di esami finali, che non dovrebbe essere i migliori di voi della sezione B! Siamo le ragazze dell'A che quelle dell'A. Un banchetto per tutti i gusti! Hai mai pensato di farti vedere da uno bravo? Il busto alla sezione A è questo! Mettetevi in fila seguendo l'ordine alfabatico! Faremo un'unica sosta all'incirca fra un'oretta. Dopodiché dovremo... Perché non mettiamo un po' di musica? Scusiamo il 25... Le lascio fare. Devo fare la pipì! Presto, 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 un bagno! Maria disse... Che sono i ragazzi dell'altra sezione? Non sarebbe logico fare una pausa senza un motivo, vi pare? Eh? Vuol dire niente il tuo letto!